Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata al progetto Conscious City realizzato dal Comune di Gela in collaborazione con l'Università Tecnica di Berlino, due giorni intensi di attività nel corso dei quali gli studenti provenienti da tutto il mondo hanno presentato alla cittadinanza i loro progetti per migliorare Gela, vediamo 48 intense ore di lavoro per gli studenti dell'Università di Berlino che durante lo scorso fine settimana hanno incontrato la cittadinanza gelese per la seconda volta dopo alcuni mesi questa volta per illustrare i loro progetti utili al miglioramento della qualità della vita a Gela. Lavori frutto di uno studio approfondito sul campo effettuato nel corso della prima missione a ottobre. I giovani talenti provenienti da tutto il mondo hanno immediatamente fotografato la città e individuato eccellenze e criticità proponendo soluzioni innovative per il superamento delle stesse criticità. È uno studio approfondito da una università, quella di Berlino, l'Università Tecnica di Berlino di fama mondiale che decide di avviare dei master, dei corsi di specializzazione applicate sul territorio. Poco meno di un anno fa il gruppo di lavoro scende sul territorio, guarda le criticità, si confronta con tutti i portatori di interesse del territorio, cittadini inclusi e dopo un anno prova a presentare in questo contesto anche abbastanza accattivante le soluzioni che non sono le soluzioni definitive ma sono le soluzioni, i punti di partenza da cui interloquire per migliorare tutti gli aspetti critici della città di Gela così come di ogni città. Architetto, quali sono le caratteristiche principali che sono emerse da questi progetti e come sono articolate queste giornate? Le caratteristiche hanno spaziato su temi rilevanti la città, proponendo soluzioni diversificate dall'energia alle piccole soluzioni che in qualche modo riguardano il quotidiano, l'agricoltura, soluzioni che riguardano l'intescambio di modalità di parcheggi per esempio. E' un problema di proporre un'idea nuova di città, un'idea nuova di città che in qualche modo si raccorda con l'esistente, sulle potenzialità all'esistente. Questo diventa un lavoro molto molto interessante se proviamo a mettere assieme questa grande capacità di ideazione alla possibilità di intercettazione anche di risorse finanziarie legate alla nuova programmazione. Questa è un po' la sfida che sta lanciando anche l'amministrazione. Oggi la nuova programmazione impone temi nuovi dall'innovazione agli investimenti intelligenti agli investimenti per l'inclusione. Questi tre grandi temi oggi sono presenti all'interno di questo lavoro e li dobbiamo tradurre in azioni, in progetti che possano attrarre realmente risorse. Notevole interesse hanno suscitato i progetti presentati dagli studenti originali e innovativi. Vediamo. Ieri, serata finale sul campo per i ricercatori e gli studenti dell'Università Tecnica di Berlino che hanno realizzato il progetto Gela Conscious City, Piazza Umberto e Lungomare Federico II sono stati alcuni dei luoghi urbani in cui gli allievi del professore Raul Bunchenten, docente di piani urbani sostenibili e design urbano all'Ateneo tedesco, hanno incontrato i cittadini somministrando loro dei questionari e aprendo anche dibattiti sul loro modo di vedere la città. Per l'amministrazione comunale c'era l'assessore all'urbanistica Francesco Salinitro. Ieri sera si è registrato così il culmine della due giorni di presentazione dei progetti che ha visto la partecipazione di numerosi gelesi all'ex convento dei Benedettini nel centro storico di Gela. Workshop, confronti e negoziazioni hanno caratterizzato le giornate gelese di studenti provenienti da varie parti del mondo, dalla Corea alla Colombia, dalla Polonia alla Cina. Due studentesse hanno presentato ai nostri microfoni il loro interessante progetto. Il progetto che hanno è quello di migliorare la qualità della vita e l'assistenza sanitaria, riutilizzando gli edifici presenti a Gela che sono attualmente inutilizzati, quindi vuoti. Sono venuti a Gela già lo scorso ottobre del 2015 per una settimana. Gela tra vent'anni sarebbe una città completamente trasformata, addirittura potrebbe essere la principale città della Sicilia se tutta la cittadinanza verrà coinvolta in questo cambiamento, questo è il senso. Tra i progetti illustrati interesse hanno destato le proposte sulla biodepurazione, sulle bonifiche, sulla democratizzazione dell'acqua, solo per citarne alcune. I lavori presentati sono stati realizzati dopo mesi di studi in città per individuarne le problematiche. Successo ha registrato l'idea di panchine trasformabili in bancarelle per l'ortofrutta, per eliminare l'impatto negativo dei posti occupati dai commercianti attuali, sensibilizzandoli, d'altro canto, a regolarizzare la loro posizione. È stato un momento di alta progettualità per Gela, commentato con soddisfazione il sindaco Domenico Messinese. Continueremo a lavorare per una città consapevole, anche se sulla mobilità urbana stiamo già concretizzando molti degli spunti suggeriti dall'Università Tecnica di Berlino. Un principio di incendio subito spento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto si è sviluppato nell'escorsione nei pressi dell'ex casello ferroviario di Via Tevere a Gela. Non è ancora chiaro da dove si siano sprigionate le fiamme e quali siano le cause. Cominciano oggi le giornate dedicate all'ottava edizione della Summer School. I particolari in questo servizio vediamo. Al Via Oggi l'ottava edizione della Summer School organizzata da Enimed con il patrocino del Comune di Gela in collaborazione con la Fondazione Enrico Mattei e Shiplab. Il corso gratuito è rivolto a laureati o laureandi e si terrà fino a venerdì 15 luglio prossimo presso la Pinacoteca Comunale. L'obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo dei sistemi economici locali con particolare riferimento ai servizi innovativi, alle PMI nei settori marketing, i business e nuove tecnologie della comunicazione attraverso la diffusione di competenze che possono stimolare l'innovazione e facilitare l'apertura ai mercati internazionali. Il tema centrale è quello del territorio, è sviluppare competenze per il territorio anche non forse sviluppare tanto come termine ma stimolare le competenze per poi sviluppare progetti sul territorio. E così come è successo negli anni scorsi, questo tipo di formazione serve a risvegliare, stimolare interessi dei giovani, voglia di fare così come è successo appunto due anni fa che si è creata l'associazione Shiplab che poi tanto dato sul territorio addirittura ha portato il Comune di Gela a Expo 2015, quindi la miglior piazza del mondo. Questa edizione della Summer School ci vede protagonisti dopo essere stati fruitori per svariate edizioni, due anni fa siamo diventati l'associazione, quello che siamo adesso Shiplab e quest'anno siamo partner della Summer School, partner di FEM, di Enimed e cureremo alcuni interventi, alcuni seminari appunto sugli sviluppi di competenze e territorio, come le nostre competenze possono portare sviluppo, innovazione al territorio. L'amministrazione comunale in concomitanza con la stagione estiva ha concordato con Pintaudi Autoline l'istituzione di tre corse dei bus per collegare il centro urbano a Manfria ogni domenica e nei festivi oltre al servizio già attivo nei feriali. Da Gela verso Manfria le partenze sono previste dalla stazione centrale che è Capolinea. Alle 8, alle 13.30 e alle 18.30 le corse di ritorno sono invece fissate da Piana Marina alle 8.45, alle 14.15 e alle 19.15. Come un'ombra ogni estate in Sicilia sembra essere emergenza rifiuti. Oggi sulla questione interviene il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano. Sentiamo. Come ogni estate sembra un giallo di stagione. Le discariche vengono chiuse mandando in DILT il sistema di gestione di raccolta rifiuti dei comuni scaricando ai sindaci tutte le responsabilità di ogni azione d'emergenza che deve essere fatta per tutelare la salute dei cittadini. In quest'ottica si prega la città di mantenere l'attenzione alta, di cercare di sfidarsi per differenziare il più possibile riducendo al minimo le quantità di indifferenziato che sono quelle che vanno in discarica. Discariche che oggi sono quasi al collasso, a giorni potrebbero anche chiudere con il rischio di avere i rifiuti per strada non raccolti. La società di gestione dei rifiuti sta anticipando gli orari di raccolta per cercare di arrivare in tempo utile a Lentini, unica discarica aperta, su cui conferisce chi arriva prima in un certo senso. Quindi c'è necessità e urgenza di poter prelevare i rifiuti dalle strade prima degli orari normali. Noi abbiamo la discarica a Gela, che è quella di Contrata e Timbazzo, che ad oggi è chiusa, nonostante l'ambito territoriale ha dato dimostrazione di poter mettere in gambo tutte le azioni per poter abbangare di più, per ridurre la quantità di percolato, per avviare il progetto di raddoppio delle vasche di discarica. Ma evidentemente chi deve firmare queste autorizzazioni non ha il tempo per farlo, creando un grave problema al territorio. Ad oggi il territorio sta ancora resistendo rispetto a quello che abbiamo visto in altri comuni. Evidentemente buona parte della città sta reagendo positivamente. È chiaro che tutti dobbiamo fare il nostro dovere e soprattutto lo chiedo anche a chi ha attività commerciali rilevanti dove stiamo rilevando delle situazioni di criticità, soprattutto nei giorni domenicali in cui vediamo conferire rifiuti che non dovrebbero stare fuori dall'attività commerciale. La bella storia di Samuele Di Natale, lo studente autistico che ha conseguito a Gela la maturità con il massimo dei voti, è ancora sotto i riflettori. Il giovane e i suoi genitori saranno ospiti oggi della trasmissione televisiva della RAI e è stata in diretta a partire dalle 17. Ieri una troupe è rimasta nella loro casa per oltre due ore. I familiari hanno infatti raccontato ai microfoni della rete nazionale la storia di vita di Samuele vissuta tra gioia e difficoltà. Giovane e di grande talento, reduce da una tournée in Sud America preceduta da altri importantissimi concerti a Vienna. Si tratta del pianista gelese Nicolo De Maria che ha raccontato ai nostri microfoni la sua carriera artistica in straordinaria ascesa. Sentiamo. Nicolo De Maria è un'eccellenza gelese, musicista che reduce da una bellissima esperienza in Sud America ma non solo, precedentemente anche in Europa. Si, precedentemente sono stato a Vienna e ho avuto, secondo me, l'onore, un onore quasi mistico di suonare dentro la casa di Mozart che sta proprio in centro a Vienna, via la Bosendorfer Saal dove vi sono concerti quasi ogni giorno. È stata una bellissima esperienza suonare proprio nella casa dove Mozart è vissuto. Il giorno dopo, appena tornato da Vienna, sono partito per l'Argentina con un mio caro amico, collega, violinista di origini argentine dove abbiamo fatto un piccolo tour in Sud America. Abbiamo suonato a Buenos Aires, Baia Blanca, Nekocea e da lì sono partite anche altre attività come per esempio una masterclass che mi è stata chiesta dopo aver eseguito un concerto in Baia Blanca. La tua carriera artistica è assolutamente in ascesa ma non dimentichi le tue origini e spesso torni a Gela con un sogno nel cassetto. Finalmente da qualche anno abbiamo un teatro. Una cosa bellissima di cui si parlava poco fa sarebbe per esempio mettere su un'orchestra stabile, un coro di coristi stabile, forse magari un corpo di ballo e creare quello che è un team di professionisti, di musicisti, cantanti e ballerini che possono essere disponibili per la città. Comunque gli obiettivi prossimi, il primo è quello di continuare a studiare. Ho dei concerti in Svizzera, parto questo venerdì e poi sono in programmazione alcuni concerti a Londra, Parigi e forse anche Brasile quindi vediamo di organizzarli e speriamo bene. Se dovessi dare un consiglio a un giovane che si sta così stradando per la carriera da musicista che consiglio daresti? Io darei il consiglio di iniziare a studiare il più possibile e il prima possibile perché è una carriera difficile, lunga, ci vuole moltissima passione. Tutti siamo chiamati a studiare e prepararci con tenacia e con pazienza per anni per realizzare quelli che sono i nostri obiettivi al di là dell'ambito musicale e artistico. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà Arjuna Das, fondatore dello Yoga dell'Energia Universale. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con la cerimonia relativa al 73esimo anniversario dello sbarco alleato. Vediamo. Si sono svolte ieri a Gela le celebrazioni relative alla commemorazione del 73esimo anniversario dello sbarco alleato, il primo ingresso in Europa degli angloamericani nel corso della seconda guerra mondiale. Una cerimonia alla presenza delle forze dell'ordine, dei reduci, dei combattenti e dei cittadini ha aperto la giornata al Teatro Eschilo. Dopo il saluto del sindaco Domenico Messinese, gli interventi dell'assessore Francesco Salinitro e del tenente dei carabinieri Francesco Ferrante. Una ricostruzione dei fatti del 1943 è stata curata dallo storico Nuccio Mulè. Gela non solo, non dimentica, ma rende onore ai chi ha combattuto in modo valoroso per difendere la nostra città. Purtroppo molte volte la politica cerca di offuscare quelle che sono invece azioni valorose e coraggiose perché si spende fino al massimo sacrificio per difendere la propria patria. Quest'anno abbiamo voluto noi non enfatizzare uno sbarco alleato che di fatto in un certo senso è stato più mitizzato, ma vorrei entrare nella realtà di quello che è stata invece la battaglia di Gela. È una battaglia sicuramente epica, che è paragonabile benissimo allo sbarco di Normandia e ciò che è avvenuto in quei luoghi, che sono più osannate e più raccontate di quando invece non si è avvenuto qui da noi, dove tutto è stato posto e messo nel dimenticatoio. In realtà la battaglia è stata cruenta, ma combattuta con valore e con eroismo. L'eroismo mai cercato, ma sicuramente gli atti che si sono succeduti hanno questo significato. E noi vogliamo lavorare in questa direzione per costruire un luogo della memoria, un museo dello sbarco appunto. Questa cerimonia di oggi rappresenta una situazione positiva per ricordare i fatti della divisione di Borno, i quali con il sacrificio della loro vita hanno contribuito a dare merito e onore all'esercito italiano. Sfatando questa diceria che gli italiani fuggirono quando gli americani sbarcarono, non è vero completamente. A Gela, con la battaglia di Gela e con due contrapposizioni delle forze dell'asse italiane e tedesche, si è riuscito per un determinato momento quasi a ricacciare gli americani di nuovo sulle loro navi. Al termine dell'iniziativa una corona dall'oro per onorare tutti i caduti è stata deposta sulla lapide commemorativa della divisione Livorno. Ultima giornata di commemorazione dedicata alla memoria di Giuseppe Lauretta, il giovane gelese scomparso prematuramente lo scorso anno mentre era in viaggio di nozze. Si concluderà stasera al Paladon Bosco un torneo di calcetto. L'associazione sportiva dilettantistica Mogela organizza il primo Memorial Emanuele Giuseppe Alabiso. La competizione calcistica prenderà il via oggi alle 20.30 con la gara inaugurale tra le squadre aggroverde e Alabiso che si terrà presso la struttura sportiva di Viale Enrico Mattei. Il torneo è organizzato appunto dalla Mogela, società preseduta da Giuseppe Alabiso fino alla tragica scomparsa del novembre scorso e in cui è cresciuto il figlio Emanuele che ha militato nelle categorie della scuola calcio e del settore giovanile. Il Memorial si concluderà ad agosto. Aspiranti pattinatori in pista per Street Factory eclettica alla riscoperta di quell'angolo di città un tempo punto di aggregazione per eccellenza dei giovanissimi amanti dei pattini a rotelle. Oggi lo spiazzo di via Rochester si è trasformato in un luogo dove sport e street art colorano i pomeriggi e le serate d'estate. Corsi sportivi per grandi e bambini curati da appassionati delle rotelle e non solo. Sono i frequentatori più affezionati della pista di pattinaggio, quella di qualche anno fa come i roller braider Mickey Pecoraro e Marco Amendola che da bambini volteggiavano con i loro pattini nella pista di via Rochester. Ma qua vogliamo, diciamo che vogliamo fare, prendere piede a questo sport del free skate che sì, noi conosciamo il pattinaggio, però il free skate è un po' più evoluto. Ci sono tante varie discipline all'interno come aggressive, urban, slalom. Vi consiglio di andare a cercare anche su internet un po' di documentarvi che sono delle belle cose perché no? Se prende piede anche qua in Sicilia, cioè in Sicilia volendo già stanno facendo lezioni verso Catania, Paternò, in quelle zone. Se prende piede anche qua in centro Sicilia non è male. Patinare quindi in questa zona per farsi comunque di poter imparare le varie discipline permette comunque di poter andare in giro sia in giro per le città che per i posti, per i parchi attrezzati. Comunque l'iniziativa fa sì che comunque le persone, i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo sport possano farlo con tranquillità in uno spazio adeguato dove potranno comunque dedicarsi, specializzarsi per le varie discipline che potrebbero essere freestyle come l'aggressive stesso o il normale fitness. Soltanto una delle iniziative portate avanti dai ragazzi di Street Factory Eclettica con il loro frega la noia, l'hashtag è diventato subito virale sulla pagina Facebook che ha già ricevuto più di 1500 mi piace a poche settimane dall'inaugurazione della pista. In questo progetto stiamo dando il via sempre più iniziative, corsi come in questo caso quello di Roller che sta partendo oggi, in questi giorni stanno anche partendo i corsi sia di hockey senza pazzino il cosiddetto hockey su Prato o anche di skateboard, quindi con degli istruttori esperienti nel loro settore si ha la possibilità quindi di far imparare i ragazzi anche giovanissimi a queste discipline street anche nell'ottica di un agonismo, di una professionalità nel creare una delegazione un giorno sarebbe il nostro sogno da mandare nei campionati ufficiali in tutta Italia anche in previsione del fatto che per esempio lo skateboarding nelle Olimpiadi prossime sarà uno sport già olimpionico. Ottimi risultati per la Lions Dance di Gela e i campionati italiani di categoria che si sono svolti a Rimini dal 3 al 10 luglio, straordinarie le performance delle coppie Simone Mistrette e Martina Spadaro appartenenti alla 16-18 classe A Andrea Cace e Carmen Santonastaso della 19-34 classe A2 e la coppia dei maestri Mirko Runza e Giulia Vancheri che ballano nella 19-34 A1 in semifinale nella 12-13 anni B3 la coppia formata da Luigi Spadaro e Mari Cascerra si è piazzata all'undicesimo posto su 90 coppie finalista la coppia composta da Luigi Larocca e Ginevra Falsaperla medaglia di bronzo per la coppia Christian Di Bartolo e Sofia Storiale nella 16-18 classe B3 Stefano Castelletti e Flavia Labiso hanno portato invece a casa la medaglia d'oro piazzandosi al primo posto su 90 coppie nella classe 12-13 C i ballerini sono seguiti dai maestri Antonino e Mirko Runza La Divina Commediole, lo spettacolo di Giobbe Covatta che andrà in scena sabato 30 luglio prossimo alle 21.30 al Teatro Antidoto di Gela la manifestazione rientra nel cartellone estivo dell'Arena all'aperto e il biglietto costerà 10 euro è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui e arrivederci alle prossime edizioni vi ricordiamo che servizi e notizie sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato arrivederci www.tg10.it 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 Grazie a tutti